L'Istituto Superiore Giustino Fortunato a Rionero vanta ormai una consolidata storia che ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni. Ha scelto come obiettivo quello di preparare i giovani di oggi alle professioni del domani. E il Fortunato si propone ai ragazzi che completano gli studi di scuola secondaria di primo grado, proponendo quattro indirizzi diversi, tutti della durata di cinque anni. Il Liceo Artistico con indirizzi Design e Grafica. Il Liceo Classico. Il Liceo Scientifico con indirizzo Tradizionale e Scienze Applicate. Il Liceo Scienze Umane e il Liceo Scienze Umane Opzione Economico-Sociale. Tutti i percorsi sono pensati per favorire lo sviluppo di competenze fondamentali per l'accesso agli studi universitari. Le sedi del Giustino Fortunato sono due, comodamente raggiungibili con i mezzi pubblici, ed entrambe dotate di aule spaziose, con PC, collegamenti internet, LIM per lezioni coinvolgenti in tutte le aule e laboratori attrezzati. I Licei del Giustino Fortunato, nelle loro diverse specificità, ti offrono gli strumenti per correre veloce in questo mondo, per comprendere e partecipare attivamente alla realtà a cui si appartiene. Oggi si ha bisogno di possedere nuovi strumenti culturali, strumenti che ti permettono di comprendere parole nuove usate proprio dai nuovi mezzi di comunicazione, di conoscere l'attualità e di affrontare da protagonisti i problemi che ci circondano. Tutto consente di entrare in contatto con la realtà internazionale, con competenze indispensabili in un mondo globalizzato e in veloce trasformazione. E' ormai riconosciuto che per poter capire il mondo attuale e non farsi sopraffare dalla sua complessità, servono contenuti, partecipazione, emozioni e metodologia della ricerca, che provengono dalle diverse discipline linguistiche, classiche e matematiche, ma anche storico-sociali, artistiche, giuridiche e informatiche, tutte ben rappresentate dai vari indirizzi di studio. Non correre, fermati! Vieni a scoprire il giustino fortunato, una scuola tutta da vivere, il tuo liceo, sì, il tuo futuro. Ciao ragazzi, io sono Maria Visa e ho frequentato il liceo artistico. Se il vostro obiettivo è quello di avere una formazione completa, ma allo stesso tempo di approfondire materie come la storia dell'arte oppure il disegno, sono sicura che il liceo artistico sia perfetto per voi. Inoltre, frequentando Architettura a Napoli, vi posso assicurare che le esperienze fatte sono state di grande aiuto. Ad esempio, lo studio di programmi per la progettazione come AutoCAD. Allo stesso tempo, non sottovalutate lo studio dell'inglese, infatti, durante gli anni del liceo avrete anche l'opportunità di fare dei viaggi all'estero. Qualsiasi scelta farete, vi faccio un grande in bocca al lupo. Mi chiamo Armando Tirico e ho frequentato il liceo classico di Rio Nero, dove ho trascorso cinque bellissimi anni, trovandosi da subito un ambiente accogliente e familiare, e professori, oltre che molto preparati, sempre disponibili a risolvere ogni tipo di problema. Per quanto riguarda l'importanza degli studi classici, ci tengo a sottolinearmi il valore, in quanto, attraverso la conoscenza del passato, riusciamo a comprendere meglio il presente e l'attualità. Importante è poi il discorso, legato all'università, ovviamente. Ebbene, il liceo classico fornisce una preparazione adeguata e gli strumenti necessari ad affrontare una qualsiasi facoltà, che sia essa scientifica o umanistica. In generale, il liceo classico è una solida base sulla quale puoi costruire il proprio futuro. Salve a tutti ragazzi e ragazze, sono Maurizio, studio lingue e letterature straniere e ho frequentato il liceo delle scienze umane. Mi sento di consigliare questa scuola, soprattutto nei confronti di coloro i quali hanno un particolare interesse nel confrontarsi con gli altri, nel relazionarsi e nel conoscere la realtà che ci circonda, tramite le cosiddette scienze umane, che comprendono la psicologia, la pedagogia, l'antropologia e la sociologia. Al tempo stesso, il liceo delle scienze umane offre una preparazione precisa e puntuale su tutti gli ambiti del sapere umano, a partire da quello scientifico fino ad arrivare a quello linguistico e addirittura giuridico-economico. Infatti, nonostante io frequenti una facoltà come quella di lingue, che si discosta dal liceo delle scienze umane per certi versi. Questa scuola mi ha comunque fornito tutte le competenze necessarie per affrontare questo nuovo cammino universitario. Quello che vi auguro è di fare una scelta consapevole e un in bocca al lupo a tutti. Ciao a tutti, sono Marta Sonnessa, studio Ingegneria Biomedica Pisa e ho frequentato il liceo Giustino Fortunato. Io personalmente ho scelto l'indirizzo scientifico tradizionale. Il mio è stato sì un percorso scientifico, ma a 360 gradi, che mi ha permesso di studiare in modo approfondito tutte le materie. Questa scuola mi ha formato in modo completo, fornendomi conoscenze e competenze che ad oggi nel mio percorso universitario sono per me indispensabili. Inoltre ho acquisito un buon metodo di studio grazie al quale ho potuto scegliere liberamente e serenamente per il mio futuro. Un metodo di studio sicuramente rigoroso, ma che non tralascia la creatività e infatti non c'è scienza senza creatività. Alla fine quello che voglio dirvi è di studiare per voi stessi, con passione, con la stessa passione che fa dello studio una vera e propria filosofia di vita, che vi permetterà di affrontare, ma soprattutto di superare, tutte le difficoltà che incontrerete lungo il vostro percorso. Io sono Alessia e questa è la mia scuola. È la scuola che mi accompagnerà nel mio percorso di studi, ma anche e soprattutto di vita. Io l'ho scelta. E voi?